Questo bacio a sorpresa in diretta tv dal conduttore Jean-Michel Mer Intanto vediamo lo scalzo Ah mamma mia No questa a voi no Pazzesco Zoppica un po' è stato investito dalla cameraman Queste sono riprese non della regia internazionale ma della Adesso invece è il primo degli umani Question is how do democracies respond to those scandals And what will it mean for the wider region I think one of your children has just walked in I mean shifting sands in the region Do you think relations with the north may change? I would be surprised if they do Pardon me My apologies What will it mean for the region? What will it mean for the region? My apologies North uh Sorry North Korea North and South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited Oh 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 Tambien va a pelear con Mexico Mexico va a pelear con Alemania Pero me da la impresion de que Alemania ya llegó Chile A su limite Y Mexico ya también llegó a su limite Me permite Chile 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 Ole Ole Sì, ovviamente il miglior combo di NFL lo abbiamo anche qui domingos. Io sono Ximena Sánchez, la chica del clima, per lo miglior di Foxport. Che buona la c**a, la accogida che le dieron in Mexico, le serrilla, signore, soy... Non siamo preoccupati per il huracan. Well, today is the Powerball's 25th anniversary. The game began 25 years ago in 1992. The Idaho Lottery is celebrating by offering in store events and statewide promotions to commemorate the event. Throughout the years, Powerball has sold over 766 million dollars worth of tickets in Idaho alone. And there have been a total of five jackpot winners in the gym state. Che buona la c**a, la accogida che le dieron in Mexico, le serrilla, signore, soy... Non siamo preoccupati per il huracan. Liz Taylor is being played by Stockard Channing, and Marlon Brando is being played by... Cedric the Entertainer. Cedric, scredir, è tutto... We're coming right back! Cedric! Inizia ogni 1 kg, dolce, medicinal ylopoli. Cedric! Cedric. Cedric. ero ti mo' 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 se mi ti mo' ti mo' ti mo' ti mo' tu hai ti mo' 400 euro sessi zezata 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 eurot are you gonna have a vest that's open ha 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 I'm sorry we were talking to Sam about dancing for the stars and I guess we are supposed to be talking Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. I'm glad you could drop in, Dan. That's okay, it's the least I can do, right? You know, everybody is disappointed that the work week is over, or the weekend's over. But I'll tell you, you know what, the start of your work week is actually going to be off. A sticky situation at an airport in Tennessee after baggage was sprayed with raw sewage. Sprayed? Corn? How'd I get on my bag? Okay, too far. Oh my gosh. Here's the deal, here's the deal. Just wait, wait, wait. This is just it. We're on TV. We're on TV. There are people watching. We're not in a private area. Just FYI. Oh my gosh. Last week, Twitter said guidelines were being updated due to confusion. The company says any users who tweets content... Excuse me. Okay, I don't know, I'm so just kidding. Alright, pull it together now. It's 5.37. Good Thursday morning to you. It's time for... I feel really out of the loop right now. I have tears coming down my head. Good morning to you. Good morning to you. We knew it. There's a little problem with the building, but in the middle we'll see when I start the studio. The camera on Mario, I'm sorry. I didn't see it. I'm sorry for the building. Nothing. Let's go, Mario. I'm sorry. I want you to start. Ora puoi provare la stola! Sedano Rassol, ci sono un progetto. C'è solo la stola? Cercherò di partire! Sì, cercherò di partire! Scrivamo prima di valvinci di Kohl Schreiber e butteremo ancora da valvinci per queste cose sulle di valvinci! Km a l'animo periodo al momento Allora, vi lo vedete! Salute! Il collègue Charles qui a fatto tomber quelque chose dans le studio! E qui a failli tomber juste avant qu'on entre en Londres, c'est pour ça le rire aussi! Un peu de soleil pour demain quand même, en début de journée, mais vous le voyez, pour la région de Sherbrooke, ça s'ennuage graduellement en après-midi! Pour la Montérégie Centre du Québec, possibilité d'averse, mais surtout en fin de journée et ça reste quand même confortable jusqu'à 20 degrés! C'est mort! Pour Grand Mamre au Missisquoi, exactement le même sérieux! C'est très variable! Jusqu'à 20! Ok, au maximum! Ok, région du granit, même chose, c'est assez simple! Heureusement, il n'y a pas grand-chose à signaler pour la météo! Mais le jour où il partit, il y a du soleil! Je vous laisse regarder le reste du tableau! Moi, j'aimerais vous aider, Valérie, mais... De vous entendre rire, ça me ferait rire! Il n'y a pas de problème! Alors, vous le voyez, des maximums nettement au-dessus des valeurs de saison! Je m'appelle ma mère, F de Wijk! F? F de Wijk! F van Frans, Frédéric! Fricule. Oh, mais... D'acquittà! Non è che io per te le video di un'unico laggo. Hai credo che non è in teo. Ha detto che hai le hands all'inche. Sì! Sì! Oh, Killo! Sì, c'e bulla ovo, ora? Sì buona! Deve una scuola! Alla scuola! Ma abbiamo una naam di sloite per il bambino! Grazie, Eftewijk! è stato un pollo 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 guarda questo picaboo cat è stai 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 è come la ecliplice non stare direttamente stai 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 st No, 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 no. I don't want to read it. I want to sit here and listen to you laugh. It's much more entertaining. We've shown this like three times. I want to sit here and listen to you laugh. I want to sit here and listen to you laugh. Bye bye. Bye bye. Grazie a tutti.